Bonjour à tous, mon nom c'est Luca di Fulvio et c'est tout un français. Mi chiedevi di cercare di spiegare di cosa parla questa storia. Vorrei iniziare a dire una cosa che io credo che i romanzi storici abbiano il dovere di raccontare qualcosa che parla anche dei nostri giorni. Il romanzo inizia nel 1500 a Roma in una piazza che si chiama Sant'Angelo in Pescheria e che però diventerà dopo 80 anni il ghetto di Roma e abbiamo un piccolo giovane truffatore il cui nome è Mercurio, un orfano che compie un crimine che non dovrebbe compiere, è un ladro ed è costretto a scappare da Roma. Nel frattempo un altro imbroglione che si chiama, che è Isacco, che è un signore ebreo che finge di essere medico e ha una figlia che si chiama Giuditta. Anche lui sta lasciando il suo posto e si trovano sulla strada che porta a Venezia, Mercurio, Giuditta, Isacco e Mercurio è un colpo di fulmine per Mercurio quando vede Giuditta e per Giuditta è la stessa cosa. E però appena arrivati a Venezia si perdono, ma Mercurio dice ti ritroverò. Però siamo nel 1516 e nel mese di marzo gli ebrei per la prima volta nella nostra storia vengono chiusi in un posto che si chiamerà il Ghetto. E allora mi piaceva raccontare questa storia di Romeo e Giulietta, due mondi così lontani che non si possono toccare, che non si possono intrecciare, ma sono due giovani e quindi immaginano un mondo diverso e migliore. Venezia per me è molto importante innanzitutto perché è la famiglia di mio padre e viene da Venezia. E io sono cresciuto spesso giocando a pallone come tanti ragazzini in campo del Ghetto nuovo. E c'era una ragazzina, eravamo piccoli, c'era una ragazzina bellissima di cui mi sono innamorato, ma ero molto timido. E poi ho scoperto che le nostre due finestre erano vicinissime, separate da un fiumiciattolo minuscolo. E ho pensato che avrei potuto tirarle un aeroplanino di carta con scritto ti amo. E mio padre ha capito questa cosa e mi ha detto un tempo non avresti potuto farlo, perché quelle finestre erano murate. E io che ero un bambino ho detto ma io l'avrei salvata. E adesso che sono vecchio l'ho salvata.